Toma, facciamo 25 anni di matrimonio. Noi? Eh, ecco. 25 anni di matrimonio? Ah. Ma come passa il tempo? Ma è normale che passi il tempo, non è che... Sì. E vabbè, e che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Hai pensato a qualche cosa? Che cosa? E non è che 25 anni si possono far passare così. E no. E fammi un regalo. Ma so, portami da qualche parte. Dove mi porti? E vabbè, amor, ti do portare. E ora mi prendi contro i piedi, non lo so. 25 anni che possono passare così. Sì. E allora? Beh. Amore, idea. Beh. Per i nostri 25 anni di matrimonio... Beh. ...ti porto a Cuba. A Cuba? Eh. Oh. A Cuba. Esagerato. Mi porti a Cuba? Eh, sì. Scusa, è per i 50 anni che fai. Ti vengo a riprendere. E la vedi. Ciao, io sono Dori. Soffro di perdita di me, ma io bevo i termini. Sì. Se tu abiti in un condominio, devi prendere l'ascensore. Entri in portineria. Non vuoi che nessuno prenda l'ascensore con te. Se ti accorgi che uno, forse, lo prenderà con te, accelari e posto. Chiami l'ascensore. Entri. Lui mette il piede. Oh, scusi, non l'avevo vista. Entra. Sai benissimo a che piano abita. Però continui. Scusi. Che piano abita? Quarto. Bene. Intanto scherzi il secondo. Perché? Voglio andare anche al secondo un pochino. Mentre parte l'ascensore, tutti che guardano la scritta si girano. Schindler. 320 chili, chissà cosa pesa questo qua. Un'altra roba che abbiamo fatto tutti in ascensore. La scorreggia in ascensore nella speranza che quando arrivi si aprono le porte e non c'è nessuno. Si aprono le porte e c'è l'assemblea condominale. Tutti che ti aspettano lì. C'era un bambino prima di me, mi scusi. Che cazzo sta a dire? Tu sai che giorno è oggi? No. Il giorno in cui ti puoi fare i cazzi tuoi. Impossibile. Era ieri. No, no. Ti assicuro che oggi fatti i cazzi tuoi. Buonasera a tutti, amici. E' venerdì, sono le 17, quindi è arrivato il momento della rubrica la sicilianità. Oggi non vi parlerò di un detto in particolare, né mi trasformerò in un dizionario del siciliano. Oggi vi voglio parlare di questa idea che abbiamo avuto io e Piero. In realtà, anzi, per essere precisi, è stata più un'idea di Piero. Ed è questa collanina. Già me l'avete chiesto in tantissimi e ora ve ne parlerò. Era da un po' di tempo che pensavamo ad un oggetto che potesse rappresentarci al meglio. E cosa meglio appunto della Sicilia avrebbe potuto farlo? Sicuramente nulla. Perché come avrete notato, sia io che Piero siamo molto legati alla nostra terra di origine. E poiché tantissima gente che mi segue, che ci segue, viene dalla Sicilia ma non sta più in Sicilia per motivi lavorativi, si è trasferita al nord o all'estero, abbiamo appunto pensato ad un oggetto unisex che potesse permettere ad ognuno di voi di sentirsi sempre a casa. Quindi, in collaborazione con un orafo, abbiamo fatto realizzare questa collanina in argento 925 con la Sicilia, a cui abbiamo fatto applicare un brillantino nella nostra città d'appartenenza. Noi l'abbiamo fatta realizzare con la Sicilia, appunto perché siamo siciliani, ma nulla toglie che questa collana possa essere realizzata con qualsiasi regione d'Italia, a cui possiamo sempre applicare il brillantino nella città che preferite, o a cui siete particolarmente legati per un qualsiasi motivo. Se questa idea ti è piaciuta e vuoi saperne di più, scrivimi qui o nell'altro social che sarò ben felice di rispondere e di darti tutte le informazioni possibili. Ci vediamo fra un'oretta qui in live su TikTok, un abbraccio e un bacione a tutti!